Disegnata per essere vissuta dall'interno e goduta la vista, Hyundai presenta la novità dell'anno, ovviamente elettrica, ovviamente Ioniq. Arrivato alla sesta generazione, questo modello rappresenta l'apice del brand coreano in termini di sostenibilità e tecnologia, riuscendo a migliorare ogni volta il dualismo tra estetica e sostanza. La Ioniq 6 è stata sviluppata con un design audace, con una silhouette da concept car, con spazi innovativi, tecnologie smart all'avanguardia e un grande divertimento alla guida. Con i suoi 14 kW per 100 km è uno dei prodotti dei veicoli elettrici più efficienti sul mercato. In questa nuova Ioniq 6, i designer Hyundai hanno riscritto le forme della carrozzeria, riuscendo a diminuire il coefficiente aerodinamico con uno stile audace e personale. In Hyundai la raccontano come una streamliner, rievocando lo stile della corrente architettonica. In effetti, la sinuosità non manca e il disegno della carrozzeria richiama le linee fluide del passato, contrapponendole a dettagli moderni come la firma luminosa. All'interno ritroviamo il family feeling Hyundai, in generale regna la pulizia per offrire uno spazio vivibile tutti i giorni, un primo passo per intendere l'auto come prolungamento dello spazio domestico, offrendo comfort e relax, sia in movimento che non. A tenere poi tutto estremamente all'avanguardia ci pensa il reparto tecnologico, di sicuro effetto scenico e pratico nell'utilizzo. Un nuovo capitolo per Hyundai, che grazie al successo di Prevendite può guardare al futuro con audacia, continuando a proporre un cambiamento non convenzionale nel mondo delle quattro ruote.